Buona giornata a tutti, l'angelo del Dio c'è con voi sempre. Oggi è la festa dell'amore, allargiamo il cuore, la speranza e la compilenza. Preghiamo del Signore e questo Dio in cuore. L'amore bisogna sempre più, stringisce il suo cuore e noi da parte nostra cerchiamo di corrispondere al tanto amore. Perché amor con amor si paga. Certo non possiamo ripagarla come dicevo, si ripaga in tutti gli istanti e in tutti i momenti della nostra vita. Ma cerchiamo di non riservarci niente per noi. Ci siamo offerti a Lui, ci siamo consegnati a Lui in questa sera. Sforziamoci che mantenete la promessa e il Signore sarà sempre più fedele di quel che noi possiamo immaginarci. Vi auguro ogni bene a voi, alla famiglia e alle persone a voi che stanno a cuore.